Tre barzellette divertenti sulla vecchiaia, pronte per farti ridere. Un vecchio sta guidando molto lentamente sulla strada. Un poliziotto lo ferma e gli chiede, perché stai guidando così lentamente? Il vecchio risponde, beh, signore, ho visto un cartello che diceva 35, quindi ho pensato che fosse il limite di velocità. Il poliziotto ride e dice, no, signore, quello è il numero della strada, non il limite di velocità. Il vecchio ringrazia il poliziotto per averle lo spiegato e il poliziotto, prima di andarsene, chiede, scusi, ma perché i suoi amici nel sedile posteriore sembrano così spaventati? Il vecchio si gira e dice, oh, probabilmente perché abbiamo appena lasciato la strada 180. Un vecchio va dal dottore e dice, dottore, penso che la mia vista stia peggiorando. Il dottore risponde, beh, hai 90 anni. Cosa ti aspetti? Il vecchio risponde, beh, il mio migliore amico ha 91 anni e lui vede benissimo. Il dottore risponde, e come lo sai? Il vecchio dice, perché ogni volta che vado a casa sua, lui mi dice che riesce a vedere attraverso le mie bugie. Un vecchio sta parlando con il suo nipote e dice, sai, quando ero giovane, tutte le ragazze mi amavano. Ero un vero Don Giovanni. Il nipote risponde, davvero, nonno? E come facevi a sapere che tutte le ragazze ti amavano? Il vecchio risponde, beh, ogni volta che passavo, sentivo le ragazze dire, ecco lì l'anziano più carino del quartiere.